Lunedì ricorrerà il quarto anniversario della tragedia di Rigopiano. Era il 18 gennaio 2017 quando, in pieno pomeriggio, una valanga di portata imponente si staccò dal Monte Siele e travolse, indiottendo il resort Gran Sasso in località Rigopiano di Farindola. Alla fine delle ricerche il risponso fu terribile, 29 persone persero la vita. Alla cerimonia in forma privata, rispettando le normative anti-coronavirus, ci sarà anche Francesco D'Angelo, che quel pomeriggio perse il fratello gemello Gabriele, cameriere dell'hotel. Sì, abbiamo voluto ricordare a distanza. Adesso sono quattro anni i nostri cari che abbiamo perso nella tragedia di Rigopiano. Siamo presenti, sarà una cosa ristretta, riservata a noi. Siamo lì proprio per fare la messa e per depositare un fiore per i nostri cari. In questi anni si è parlato tanto di Rigopiano, dentro ma soprattutto fuori dalle aule del Tribunale di Pescara, dove, tra cambi di scenari continui, tra cui come se non bastasse l'emergenza Covid, si attende l'avvio del vero processo con la novità dei nuovi studi sulla correlazione valanga-terremoto, che potrebbero arrivare già dalla prossima udienza di marzo sul tavolo del gruppo Sarandrea. Ogni volta che c'è un'udienza noi chiediamo giustizia, ma in questo momento non so più cosa credere, se credere ancora nella giustizia, vedendo anche i fatti di Viareggio, purtroppo mi fa poco sperare ad avere una giustizia. Come detto, lunedì è la giornata del ricordo e il comitato vittime di Rigopiano tornerà ad abbracciarsi sul luogo della tragedia. Per le ore 15 è previsto il ritrovo presso il totem, simbolo dell'hotel, e dove dovrebbe sorgere il giardino della memoria per la deposizione di un fiore. Poi alle ore 16, previa autorizzazione, è prevista una santa messa all'interno del sito dell'hotel, posto ancora sotto sequestro. Alla cerimonia saranno presenti il questore di Pescara Luigi Liguori, il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, oltre al presidente della regione Marco Marsilio e della provincia Antonio Zaffiri. Una corona, in ricordo, sarà inviata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.